Tudor Black Bay, l'orologio da polso che unisce storia, design e prestazioni L'orologio da polso Black Bay è un'icona di stile e tradizione nell'ambito dell'orologeria. Si tratta di un modello senza tempo che incarna l'eleganza e la robustezza, ispirato ai primi orologi subacquei Tudor degli anni 50 e 60. Il Black Bay è noto per il suo design inconfondibile che combina elementi vintage e moderni. La cassa è caratterizzata da linee pulite, un'estetica retro e una corona prominente che richiama gli orologi subacquei classici. Il quadrante, con grandi indici e lancette luminescenti, offre una leggibilità impeccabile anche nelle condizioni più difficili. Il Black Bay è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui il nero, il blu, il bordeaux e il bronzo. Il cinturino può essere in acciaio, in pelle o in tessuto, a seconda della versione. La scelta di materiali di alta qualità e una tecnologia all'avanguardia si uniscono alla tradizione artigianale per creare un orologio, che è, sia un tributo al passato che un esempio di innovazione. Il Black Bay è stato lanciato nel 2012, in occasione del sessantesimo anniversario del primo orologio subacqueo Tudor, il Tudor o Easter Prince Submariner. Da allora, il Black Bay ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui al prestigioso Grand Prix d'Orlogerie de Geneve, GPHG, il più importante concorso internazionale dedicato all'orologeria di alta gamma. A questo prestigioso Oscar degli Orologi, Tudor ha vinto ben nove premi nel corso degli anni, tra cui sei con la collezione Black Bay. Il primo premio è stato il Revival Prize nel 2013, con l'Heritage Black Bay Lunetta Bordeaux, che reinterpreta un modello storico. Il secondo e il terzo premio sono stati la Petite Gui nel 2016 e nel 2017, con il Black Bay Bronze e il Black Bay Crono, che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e una funzione cronografica eccezionale. Il quarto e il quinto premio sono stati il Challenge Watch Prize nel 2019 e nel 2020, con il Black Bay P01 e il Black Bay 58, che hanno un prezzo accessibile e riprendono le proporzioni e il design degli orologi subacquei Tudor degli anni 50. L'ultimo premio è stata ancora la Petite Gui nel 2021, con il Black Bay Ceramic, che presenta una cassa in ceramica nera e un movimento certificato Metas. Insomma, la collezione Black Bay è un connubio di storia, design e prestazioni eccezionali, che si fondono per creare un'icona senza tempo, e lo dimostra soprattutto la quantità impressionante di premi vinti al GPHG. Una delle caratteristiche principali che hanno reso questa collezione un punto di riferimento è sicuramente la prestazione in acqua. Questo orologio è stato progettato per resistere alle pressioni subacquee e garantire una tenuta ermetica impeccabile. È diventato un punto di riferimento per gli amanti delle immersioni, offrendo affidabilità e prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più estreme. Il Black Bay ha una resistenza all'acqua di 200 metri, caratteristica leggibile sul quadrante. Se sei alla ricerca dell'orologio perfetto non puoi non considerare i segnatempo della collezione Tudor Black Bay.